Per la semina di pomodori, melanzane e peperoni è possibile utilizzare contenitori multiforo. Riempiamo il contenitore con un terriccio costituito da una buona percentuale di torba e perlite per garantire il drenaggio durante la germinazione delle sementi. Esercitiamo una buona pressione per compattare il terriccio presente nei fori con un setaccio cospargiamo il contenitore con uno strato di 1 o 2 mm di substrato. Eseguiamo un'ulteriore pressione utilizzando la punta delle dita per far sì che non vi siano bolle d'aria. Si raccomanda di acquistare sementi di ottima qualità. Poniamo uno o due semi per ogni foro. È molto importante in questa fase scartare eventuali semi rotti o anneriti. Dopo aver riempito tutti i fori con la semente, andremo a coprire la superficie del contenitore con uno o due millimetri di substrato setacciato. Premiamo ancora per garantire una buona coesione tra terriccio e semente. In seguito, irrighiamo con un nebulizzatore per evitare l'asportazione del terriccio. Grazie a tutti.